Sono Filippo Valsetti, vicecorrettore provinciale, voglio rubare uno slogan di Federico Gregorio, il nostro candidato che noi sosteniamo ad Alba, nel tante parole. Insomma, i terrenti politici li hanno già fatti loro, per cui io rappresento Alba e la nostra forza è lo stare in mezzo la gente. Stare in mezzo la gente vuol dire fare gazebo, vuol dire andare a dormire tardi sabato sera, svegliarsi presto la domenica mattina. I giovani del Roero, per esempio oggi sono in giro a Valentinare per la Lega per portare su la nostra regione. Roberto Porta. Noi di Alba, tredici, faremo mispadagna, insomma alla fine il nostro obiettivo è concentrato per il federalismo, la svolta storica, quindi per portare Roberto Cota e applicare il federalismo. Temo libero!